Da 50 anni vivono a Carbonara, da 50 anni convivono con il mancato aggancio a un servizio essenziale, la Fogna. Il consigliere regionale della Lega Fabio Romito ha incontrato alcuni residenti di una delle traverse di via 40, una piccola strada del quarto municipio di Bari, da dove da anni si chiede di essere allasciati al tronco principale. Un'impresa impossibile a quanto pare, nonostante le tante promesse che i cittadini dicono di aver ricevuto nel corso degli anni. Paghiamo le tasse, arriva tutto, qua arriva pure il gas, però la Fogna non è possibile, non lo so perché, è una delle poche strade ormai che Carbonara non ce l'ha. Noi paghiamo le tasse, siamo cittadini che paghiamo le tasse, per noi che noi viviamo qua siamo dei comuni mortali, non ci pensa nessuno. Verso giugno dovevano venire a fare, con giugno è passato, sta passando anche luglio e non vediamo niente qui. Sono anni che noi combattiamo con questa cosa. Lei va da 30 anni, io voglio 50 anni. 50 anni. Il comune dice, io ho parlato con il direttore dell'ufficio urbanistica, dice che la competenza della Fogna è dall'acquedotto. L'acquedotto dice che è competenza del comune. Romito, accompagnato dalla consigliera municipale Mariella Binante, ha raccolto le lamentele dei cittadini e chiederà approfondimenti al comune. Chiedono semplicemente il diritto e rivendicano il diritto di poter vivere in una città civile e moderna nel 2023. Non è immaginabile che questa gente non abbia il tronco di Fogna che arriva nelle proprie abitazioni. Siamo in piena città, non siamo in una zona di campagna deserta e desolata. Con tutto il disagio che poi questa gente ha, quando avviene cadenzialmente lo scarico delle vasche, perché comunque sono tubi, è un disagio che preferibilmente quanto prima si dovrebbe comunque nel 2023, penso che basti e si dovrebbe passare oltre.